qui veramente ci stiamo giocando la vittoria del campionato franco da terzino destro a difensore centrale vediamo se salirà d1 na merda ok proviamolo a far diventare quello è niente equilibrato va bene offerta per guidi lo voleva il cagliari non ve l'ho detto per un milione 8 adesso lo vuole il che che squadra è no guidi non si tocca robson milione 8 al bormont ancora non si tocca non si toccano i miei ragazzi ricordone ristabilito ma da che panci o panci o cassetti allora preso punto finale reso punto finale ok questo chi era puyol andiamo a vedere puyol 65 penso che sopiamo poi carmo quello 74 9 milioni però non va bene questo erculano erculano ma anche no giocatore ristabilito no marco cassetti va bene cambiamo qui un po di cose d'amico che è salito di uno allora io direi che sordini che non segue più la pagina se ne va a casa cassetti me dice che si è ristabilito ma non si è ristabilito manco per cazzo e andiamo così va bene proviamo a prendere il che ho fatto proviamo a prendere tanto vediamo se c'è trovato qualcuno qua di cardinio e puyol era era puyol vediamo se viene puyol puyol no carles puyol naturalmente ricard puyol pare che ci abbia pure la faccia può far pure il terzino sinistro andiamola ad acquistare inizia la trattativa col club vediamo quanto chiedono allora scambio giocatori se io ti dessi se io ti dessi un guido bianchi no un guido bianchi no perché sta crescendo se io ti dessi un coine più un milione cento tu che me diresti vuole un milione e due più 5 per cento della clausola a me me pussa però vale un milione e mezzo se vuoi ti do un milione 12 per cento della rivendita va bene c'è problema vediamo lui che che risponde che può fare pure il terzino sinistro è comodo molto comodo allora ruolo squadra turn over e ti pareva ok tre anni va bene senza clausola decisoria vuole il bonus presenze no io ti do 2 milioni e 4 più un ingaggio di 22,5 vuole 2,6 va bene va bene l'abbiamo preso l'abbiamo preso lo mettiamo subito al posto di coin che è inguardabile che è proprio inguardabile questo bianco io ci credevo però non è niente di che tra un anno mi sa che se veniamo coine se veniamo subito anzi no meglio da no metti caso ci serve mattia che non sale non sale più un amico pure 18 anni va bene così per adesso un acquisto lo abbiamo il numero 14 ha scelto lui va bene va bene la prossima è col Newport Newport county va benissimo le magliette vanno bene dal primo minuto io vorrei far entrare Anderson d'accanto destro al posto di Minieri voglio vedere questo Anderson come si muove che cosa me la chiami che sei coperto dall'avversario imbecille? a me sto Anderson non mi pare un pezzo di legno bravo Robson per Vico Relli che scarica portiere si supera Dario Dario Vico Relli per Monk vuole la gloria niente niente bravissimo Rossi stai fuori gioco Vico invece no invece si è buona è buona Anderson Rigorelli ancora Anderson si capiscono i due Rigorelli non va la lotta di Anderson la lotta di Anderson ah Hidalgo ha presa si vabbè Hilton ma mi faccio il piacere Hilton ma per cortesia cambia tutto a sé bravo per Rosi è buono devi devi per Rosi no l'ha toccata Vico Relli è fuori gioco che sfiga ha fatto un super tiro Rosi che sfiga ho non ti arrendere Monk bravo Rosi bravo Rosi Vico Relli per Rossi che se lo allunga Dario niente palo incredibile incredibile bravissimo bravissimo Rosi Rosi sbaglio sempre Rosi Rosi a giro non va e oggi lo fa Dario sta avverenato è un po' avverenato ma il destro velenoso è nostra tranquillo che c'è Monk prestazione straordinaria oggi devi rosi per Vico Relli i due si capiscono alla perfezione che cos'è che cos'è Vico Relli devastante a quota 17 18 mamma mia stavamo solo a gennaio bravo Davy pallone per Vico Relli Vico Relli che becca bene Davy Davy di sinistro c'è subito il 2 mamma mia quota 5 Davy che pallone Vico Newport un po' in difficoltà un bel po' in difficoltà un bel po' in difficoltà possiamo diventare veramente grandi ragazzi basta solo crederci bravissimo Robson Davy per Vico Vico Relli per Carriero Carriero per il ragazzo il nuovo ragazzo Anderson la finta di Anderson appoggia per Carriero Carriero per Davy Davy come prima un tiro e un gol ragazzi che squadra Davy a quota 7 3 a 0 ragazzi io direi che è chiusa stiamo giocando troppo bene per questo per questo è merda cambi guidi no Minieri che è diventato centrocampista centrale e lo proviamo subito al posto di Carriero Moscatelli al posto di Tom Masuolo e Filogamo e al posto di Rossi e va a fare l'attaccante sinistro anzi facciamo al contrario Vico Relli attaccante sinistro Filogamo punta va benissimo ragazzi ne facciamo un altro proprio per stare a braccia concerte per tutto il resto della partita e non ci pensiamo più bravo moca che partita che sta facendo finalmente si è si è sbloccato Minieri devi la progressione di Robson occhio a Vico per Filogamo no pure Filogamo in golla no non ci posso credere non ci posso credere pure Filogamo è chiuso ragazzi è chiuso è chiuso anche perché non è finita Anderson Anderson ancora per Filogamo la doppietta di Filogamo non ci posso credere 5 a 0 partita perfetta è finita invece no non è mai finita non è mai finita Newport sotto assedio Newport sotto assedio gli avversari hanno fatto il loro comodinare senza che nessuno lo visto in base questo è un atteggiamento che denota una scassa concentrazione sanno letteralmente umiliato gli avversari con questo 6 a 0 pesantissimo passaggio intercettato dico qui sono palla occhio che guarda gli metri si guarda attorno a cercare una soluzione mi dà algo sembra ciaviar zanetti non è finita anderson putta l'avversario anderson e lo supera e neri sbaglia ancora i talco buona per filo mamma mia devi se lo facevi così c'è solo GSA incredibile segna anche lui all'esordio incredibile 7 a 0 stessa parole ragazzi filo come due golle un assist vigorelli due golle un assist non ci sono parole finisce così il successo successo ultrameritante non ho conto mai in discussione hanno preso vano il patino dal frano e non hanno più volato Grazie.